A distanza di pochi giorni dall'operazione Pietra Tombale, i carabinieri della compagnia di Modica ritornano sul campo, con un'altra operazione antidroga convenzionalmente denominata Bus Drug. E' stato posto un freno all'attività di spaccio lungo il litorale di Scicli, con l'esecuzione di cinque misure cautelari. Difatti, giovani e meno giovani, durante la scorsa movida estiva, erano intenti a spacciare. L'attività d'indagine, avviata nell'aprile dello scorso anno, è il risultato di un costante controllo del territorio, posto in essere dai militari del nucleo operativo e radiomobile di Modica. I militari operanti hanno potuto accertare che il soggetto principale dell'inchiesta, quando otteneva i permessi premio in virtù del suo stato di detenzione domiciliare, invece che espletare la sua attività professionale, si dedicava allo spaccio e al dettaglio presso il posto di lavoro. I militari hanno constatato circa 90 cessioni di sostanza superfacente, soprattutto cocaina, per un valore complessivo di circa 15.000 euro.